Ciao e ben ritrovati su WP Anteprima. In questa rubrica settimanale vi anticiperemo alcuni dei messaggi che troverete su Volta Pagina in onda tutti i giorni su WP canale 271 del Digitale Terrestre. Prima di iniziare vi ricordo come inserire i vostri annunci all'interno del Volta Pagina. Potete telefonare al numero 0763 344422 e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica oppure inviarci un fax al numero 0763 343842 o se preferite potete collegarvi sul sito rta.it ed andare nella sezione Volta Pagina. Ricordate che il modo migliore per utilizzare Volta Pagina è di descrivere correttamente il vostro messaggio e di lasciare un recapito per essere ricontattati. Vi anticipo dunque alcune dell'inserzione ricevute in redazione questa settimana. Vendesi causa in utilizzo barra falciante per trattore marca Gaspardo misura 1,50 m in buono stato prezzo affare. Chiamare il numero 339 8105 959. Cercasi lavoro come pulizie zona Castelgiorgio e dintorni. Chiamare il numero 327 4520 540. Cercasi badante con esperienza nel settore età compresa fra i 30 e i 50 anni zona Viterbo. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0761 353252. Società di Viterbo cerca un falegname con esperienza nei serramenti e compatente di guida V. Chiamare il numero 0761 353267. Vendesi Alfa Romeo Spider 1300 del 1976 revisionata con guarnizione della testata da sostituire. Prezzo 6.500 euro. Chiamare il numero 328 9312966. Società di Orvieto cerca muratore, carpentiere o manovale, contratto a tempo determinato 6 mesi. Per informazioni consultare il sito www.provincia.terni.it. Cercasi un addetto alle vendite all'ingrosso zona Castiglioni in Teverina, iscritto ai centri per l'impiego della provincia di Viterbo. chiamare il numero 0761 353252. Cercasi addetto alla cucina con servizi di pulizia presso ristorante ad Orvieto. Per informazioni inviare il proprio curriculum all'indirizzo centroimpiego Orvieto-provincia.terni.it. Con questo è tutto. Vi ricordo che per inserire i vostri annunci all'interno del Volta Pagina potete telefonare al numero 0763 344422 e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica oppure inviarci un fax al numero 0763 343842 o se preferite potete collegarvi sul sito rta.it ed andare nella sezione Volta Pagina. Grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima settimana. Ciao! Ciao!